Lago di Idolo, siamo ad Anfo in questo contesto spettacolare, dietro di noi la salita del Barimone per la 48esima edizione di questa gara storica. Ci siamo anche noi come Gesù Dolese perché abbiamo accettato e offerto volentieri la collaborazione al comune di Anfo, al proloco di Anfo che ci hanno chiesto per questa edizione veramente storica e comunque con un numero veramente importante e sicuramente una manifestazione di livello per questa Valle Sabia. Ci hanno chiesto di partecipare e noi siamo qua perché quest'anno abbiamo sicuramente già preso in considerazione altre conoscalate abbiamo iniziato a quella della fobia e abbiamo sicuramente accettato di buon grado di partecipare come collaboratori e a questo punto anche a questa di Anfo. La giornata è splendida, stiamo facendo l'operazione preliminari di avvio di questa manifestazione che ricordo è aperta ai polisti e aperta ai ciclisti di strada e mountain bike e quindi adesso andremo ad augurare in bocca al lupo e a tutti i partecipanti. Grazie. oh i 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